Ciao mio caro amico aspirante, trader professionista e profittevole oggi è giovedì 25 luglio 2019 e permetti di mostrarti quel che ho fatto partiamo sempre dall'analisi del market profile della sessione pitusa di ieri ieri è stato un giorno fortemente a rialzo ci sono 4 distribuzioni del prezzo 1, 2, 3, 4 le linee magente tratteggiate dividono le 4 distribuzioni durante la Asia session il mercato ha rotto sopra il massimo pituso di ieri e la London Seash ha rotto ancora di più per poi rientrare dentro in questo scenario il mercato ha rotto evidentemente a ribasso io purtroppo non mi sono aggiunto ai sellers ma ho aspettato la prima occasione importante su un livello importante questa linea tratteggiata e punteggiata nera è un precedente livello di massimo settimanale e praticamente io non ho fatto altro per posizionare 10 o gli indipendenti long perché 10? perché quando apriamo dentro il range pitusa precedente del giorno precedente io raddolpo la mia size da 5 a 10 contratti bene, non ho fatto altro per mettere semplicemente questi 10 ordini pendenti buy quando il mercato sarebbe entrato per la seconda volta sopra questo livello settimanale di massimo ok? poi qua sotto c'è un modo di basso i volumi del volume composite degli ultimi due anni un'altra indicazione importante che i smart buyers erano in agguato erano già entrati al mercato bene, il mercato mi esegue il mio stop loss è sotto a tutto i miei primi 5 contratti target sono sulla linea nera la tratteggiata è il P o C della sessione pitusa di ieri l'ultimo target è qua ha un tic sotto il punto di mezzo della sessione pitusa di oggi vedi questa linea tratteggiata blu e in questa distanza c'è anche questa linea rossa questo è un altro nodo di bassi volumi preso dal market profile e dal volume composite profile degli ultimi due anni bene, il mercato come vedi fa una finta cioè viene giù violentemente al ribasso ma si ferma proprio lì perché ti ripeto qui c'è un nodo di bassi volumi preso dal volume composite e poi questo è il grafico chiave questo è il grafico R10 del SP-500 dove praticamente il mercato è venuto giù violentemente per poi rimbalzare a questo livello settimanale di massimo settimana precedente e andare a rialzo il mercato come vedi mi ha dato ragione i smart buyers hanno comprato sotto la linea tratteggiata settimanale per poi comprare di nuovo sotto il POS della sessione pitusa di ieri il mercato come vedi ha aperto la seconda linea di 30 minuti del foot quindi il mercato mi va a target con i primi 5 contratti a questo punto ho spostato il mio stop loss da qua a brecchirmi più qualche tick il mercato mi prende i primi 5 contratti quindi a questo punto io lascio il mio trading stop profit qua poi il mercato prosegue la sua forza rialzo non vedi mai che profile da un importante indizio che l'intuizione sarà giusta cioè i smart buyers hanno comprato da sotto questo livello precedente di massimo settimanale e il mercato cosa fa? io sollevo il mio trading stop profit gestendo operazioni ogni footprint a 5 minuti e poi il mercato questo ancora graffio R10 il mercato mi va a target e that's it questo è tutto e con questo trade profittevole ho preso 1637 dollari caro amico se devo trarre in questo modo fare anche meglio di me nel mercato difficile azioni e opzioni allora scrivo la tua storia adesso e mando la link sotto a questo video vi ti auguro grossi grazie su corsi profitti in ogni tua prossima sessione di trading ciao dal mighty ci vediamo domani nel prossimo trade profittevole ciao